buongiorno eccoci qua con prexinet e l'argomento di oggi sono un po condividere un po la la conoscenza e essere anche condividere un po di consapevolezza per tutte le persone che montano a cavallo riguarda che cosa riguardo alle redini spesso si vede gente che ha mani basse dure ferme e quindi di conseguenza il cavallo diventerà teso contro la mano scapperà la mano quindi si può incappucciare diventerà avrà una bocca come si dice qualche di voi non hai mai sentito dire questo cavallo ha una bocca dura probabilmente perché ha avuto una pressione abbastanza forte nella bocca e quindi chiudono le le mandibole si rendono tesi e cercano di difendersi in qualche modo da dolore e da una comunicazione poco efficace quindi volevo condividere con voi alcuni esempi insieme a frexinet nel programma parelli sappiamo che ci insegnano molto bene tante cose tra le quali chiudere lentamente le mani e aprirle velocemente questo è il primo step da imparare perché perché la nostra natura è quella di chiudere le mani veloci per appunto il cavallo scappa chiudiamo le mani veloci sulle redini e apriamo le mani lentamente quando il cavallo si ferma ora facciamo questo esempio vi faccio vedere alziamo le redini tutti lo possono fare serenamente con un professionista accanto sempre chiaramente prendiamo la redini destra in questo caso e mettiamo 10 grammi sul tra l'indice e il pollice e aumentiamo e appena il cavallo vedi ha ceduto semplicemente un pochino rilascio questo serve a noi ma serve anche ai cavalli quindi chiediamo questa flessione laterale chiudo le dita lentamente e le apro velocemente dal momento del cavallo è riuscito a seguire il suggerimento della pressione lo rivediamo ancora una volta apriamo 10 grammi 20 o lascio subito quindi di nuovo ripeto 10 20 30 tac lui in questo momento ha deciso di muovere i piedi non c'è nessun problema quando la flessione buona vedete la redine non pesa sulla redine il cavallo chiudo la mano aspetto non pesa sulla redine lascio ok questo potrebbe essere già un buon inizio per far capire al cavallo una flessione laterale la responsabilità di rimanere flesso lateralmente oltre anche ad altre cose che ci serve un po per la sicurezza quindi che non so se un cavallo scappa potrei chiaramente usare questa tecnica per cercare di fermarlo chiudere un cerchio piccolo però qui stiamo parlando proprio di incominciare ad avere mani sempre più sapienti quindi esco fuori qui prendo questa redine mettiamo 10 grammi la se segue tolgo subito 10 20 30 40 grammi appoggio la mia mano il cavallo cede la redine rimane lenta lascio ok bene poi abbiamo detto questo un po lo potete provare anche da terra se volete anche in capezza per chi magari non ancora non ha messo l'imboccatura nel nel suo cavallo e la stessa cosa la possiamo fare per per fare dei passi indietro mi giro un po qui e possiamo magari incominciare magari abbiamo dei cavalli che indietro non vanno va bene e magari possiamo forse perché magari alle volte tiriamo le redini così cioè come un tira e molla quindi il cavallo incomincia a fare questi versi qui con la con l'incollatura e invece anche qui possiamo riproporre lo stesso codice che avevamo fatto quindi lateralmente prendo chiudo le dita lascio prendo chiudo le dita lascio è così il cavallo riesce a seguire l'indicazione che gli diamo e riesce a capire che la comodità sta se segue la pressione e cede alla pressione più che andare contro la pressione per quanto riguarda i passi i passi indietro potrei prendere le redini va bene allargare un po le mani non tenetele troppo chiuse perché fate un effetto schiaccianoce dentro la bocca del cavallo quindi per una fase di insegnamento e potrei incominciare a ora lo stacco un po dell'imbocatura anche qua con la pressione costante a chiedere 10 grammi o si è già mosso lascio tutto grazie questo potrebbe essere è un test da fare di modo che poi un domani potrò chiedere qualcosa di più al mio cavallo quando ha capito e incomincerò magari a chiedere poi puoi fare più passi indietro essendo molto leggero come vedete io ho due due dita sulle redini ogni tanto le redini sono a lente e di nuovo lascio ok quindi questo potrebbe essere veramente una come si dice un teaching phase è una fase di insegnamento per noi e per il nostro cavallo prendetevi il tempo che vi serve così ci vorrà meno tempo per poi ottenere magari una bella retromarcia così già il cavallo devo già andare indietro so benissimo che questo vuol dire andare indietro fantastico molto bene flexi ok ok ora parliamo un attimo di alcuni tra virgolette non è bella usare la parola errore però è veramente poco efficace quando dobbiamo girare con il cavallo allora quando noi comunichiamo quando noi tiriamo una redine indietro cosa voglio dire faccio questo esempio qui immaginiamo che io sto andando dritto e voglio venire verso la telecamera se io tiro la redine in questo modo va bene parlo più con il posteriore vedete che il posteriore quando io tiro la redine dietro la gamba incrocia il posteriore addirittura il cavallo e vedete flette il collo quindi sbilanciamo un po il cavallo sulla spalla esterna in questo momento e facciamo sì che il cavallo alle volte fa questo no tiro la redine e il cavallo io vorrei andare dall'altra parte il cavallo continua a portarmi si dice fuori con la spalla quindi ora mi risposto un attimo qui e poi quindi quando tiriamo la redine dietro la nostra gamba va bene e magari siamo nel trotto poi lo farò vedere non ho il controllo della spalla facciamo un altro esempio io vado vi faccio vedere parte sinistra vorrei fare un cerchio qui ok e a un certo punto da questo cerchio voglio venire verso la telecamera se io faccio questo va bene per venire verso la telecamera vedete il cavallo cosa fa si flette giustamente perché ho la redine tirata qui e continua continua a mettere il a ingaggiare il posteriore ok vediamo la differenza se io uso la redine nel programma prelli si chiama redine diretta e che è la redine che ci permette di comunicare con la spalla dare una nuova direzione alla spalla vediamo la differenza io sono qua mi preparo la redine guardate dove la porto per ora guardate come fa il cavallo come gira avete visto come ha incrociato anche gli anteriori lo vediamo anche da questa parte facciamo la redine quella che non ci porta ad avere una comunicazione ed un controllo della spalla qual è quando io giro immaginate che sono al trotto io giro faccio questo e perdo tutto il motore del cavallo il motore del cavallo si intendono le anche cioè è come questo vede se io tiro qui non riesco neanche a spostare la spalla il cavallo è sulle spalle completamente vediamo la differenza ora quando usiamo la redine diretta e vi assicuro che è meglio esagerare per poi rifinire il vostro linguaggio in sella va bene vediamo io arrivo qui con frexnet guardo la telecamera alzo la redine vedete guardate come il cavallo è il posteriore è pronto per spingere nella nuova direzione quindi quando abbiamo le mani basse così giriamo così a cavallo in questo modo qui non è tanto corretto neanche per il cavallo perché oltretutto le mani basse sono siamo tutti d'accordo che le mani basse vanno tenute basse ma dal momento che il cavallo ha la responsabilità e la conoscenza le informazioni per sostenersi alto leggero dritto con la nuca flessa ma siamo veramente in un momento di addestramento già molto avanti ok allora vogliamo mettere un po di musica vediamo solo due cose al galop con la redine e al trotto e al galoppo scusate sia con la redine quando la tiro qui e sia con la redine quando la porto qui ok questa sarà la redine diretta che userò per spostare le spalle al trotto e al galoppo ok vediamo un po vado nel trotto voglio venire verso la telecamera tiro la redine in questo modo e poi devo riadrizzare il cavallo per venire verso di voi vedete lo rifacciamo al trotto qui ora uso la redine diretta guarda la telecamera vengo verso di voi e ho proprio il libro per venire verso di voi molto più facile sia per lui che per noi per girare lo vediamo nel galoppo nel galoppo si vede molto bene perché guardate quando porto la mia mano destra e guardate per girare molto scomodo molto scomodo non riesco neanche a portare il cavallo lì alla telecamera e il cavallo lo metto in seria difficoltà lo metto fuori equilibrio vediamo una girata col cavallo se invece io alzo la redine vediamo cosa succede quando io alzo la redine alzo la redine qui vedete come sono riuscito a veramente a girare anche in uno spazio abbastanza stretto questo ci permette di capire veramente che quando tiriamo indietro il posteriore continua a spingere in avanti il cavallo fletta la testa e la spalla se ne vado un'altra parte bene spero che questo video sia vi sia d'aiuto ricordatevi esagerare nelle posizioni è la redine diretta negli studenti agli stamparelli facciamo fare proprio questo bel movimento qui vedete sulla sella proprio per vedete come esagero nel linguaggio e infatti il cavallo muove le spalle lo vediamo anche da questa parte vedete alzo la redine metto la mia gamba e chiedo al cavallo di spostare la spalla e lo studente impara un po a muoversi su questa sella per poi magari domani come avete visto e muoversi molto meno essere più belli più eleganti a cavallo perché alle volte finisco con questa cosa qui alle volte magari noi siamo a cavallo vogliamo essere eleganti ma fondamentalmente sono le persone le se le mettiamo in una posizione immediatamente come dire da una posizione di università cioè di una di un discorso già molto avanzato così ma di basso petto in fuori fermo giù i talloni o mamma mia povero studente nel senso che è un po troppo presto metterlo in una posizione concentrata diciamo quindi vi suggerisco di seguire il programma parelli essere seguiti da professionisti istruttori parelli come me così che vi possano aiutare e nella vita potete avere più successo grazie mille